Ciao, oggi parliamo di alimentazione e disturbi intestinali, con particolare riferimento a meteorismo, quindi aria nella pancia e dissenteria. Sono disagi sicuramente molto frequenti e molto diffusi nella popolazione del giorno d'oggi. Se anche tu hai questo tipo di disturbi e magari le hai già provate tutte, sei stato da mille gastroenterologi, hai fatto mille test, non hai celiachia, non hai intolleranze alimentari, non hai nessuna patologia specifica, eppure non sai dove sbattere la testa e come fare per risolvere questo tipo di disagi, sappi che esistono una serie di rimedi che puoi utilizzare per migliorare il tuo stato di salute. La prima cosa da fare è verificare se effettivamente soffri o meno di un'infiammazione cronico-sistemica dovuta a stress. Che cosa vuol dire? Purtroppo oggigiorno un po' tutti siamo sottoposti a mille stress, mille stimoli stressogeni, ad esempio l'ansia, i timori per il futuro, le preoccupazioni per la famiglia, il lavoro, lo studio, oppure ancora un'alimentazione non corretta, una forte sedentarietà, ritmi di vita non regolari diciamo. Però purtroppo tutto questo nel lungo periodo può ripercuotersi negativamente sulla nostra salute. In particolare quando lo stress si riconduce a un breve periodo di tempo, il corpo si adatta, reagisce e va avanti. Ma quando la situazione stressante effettivamente perdura a lungo nel tempo, questo può diventare un problema. Possono nascere infatti squilibri ormonali e metabolici con conseguente formazione di un'infiammazione sistemica, cioè che coinvolge un po' tutti gli organi e apparati e può arrivare a colpire appunto anche l'intestino, causando un rallentamento delle sue funzionalità o ostacolando proprio il suo regolare funzionamento. Da qui subentrano i classici sintomi che dicevamo prima, quindi gonfiore addominale, dissenteria o talvolta il problema opposto, quindi la stitichezza per esempio. Che cosa puoi fare quindi in questi casi? Sicuramente l'alimentazione è un valido alleato per aiutarti ad eliminare queste sintomatologie. La prima cosa da fare in questo caso è darsi una regola in termini di orari a cui assumere i vari pasti. Sì perché l'intestino è un organo molto metodico e ha bisogno anche di una certa regolarità in termini proprio di stile di vita. Quindi è importante ad esempio consumare una colazione abbondante non oltre le 8 e 30 del mattino, fare un pranzo tra le 12 e le 14 e una cena ad esempio tra le 19 e le 20 e 30 a 21 al massimo, con dei break a metà mattina e a metà pomeriggio per spezzare le lunghe ore di digiuno che vanno tra un pasto principale e quello successivo. Grazie Annalisa, ma adesso cosa mangio? Allora a colazione è importante anche a pranzo e a cena ovviamente, ma la colazione è un po' il momento che per noi italiani è rappresentato da cappucce e brioche. Attenzione, eliminiamo completamente i latticini in questo caso, non solo per il lattosio, tu non sei intollerante al lattosio, ma anche le proteine del latte possono effettivamente andare a irritare il tuo intestino. Se proprio non riesci a fare a meno del latte o analoghi, potresti utilizzare ad esempio dei derivati come ad esempio il latte di soia, il latte di mandorla, il latte di riso, quindi prodotti di origine vegetale essenzialmente. Puoi utilizzare tranquillamente dei cereali a colazione, ti consiglio però di non usare il frumento integrale, quindi no fette biscottate integrali, pane integrale, piuttosto che cereali a base di frumento integrale che vai ad addizionare al tuo latte vegetale per esempio. Perché questo? Per due motivi, glutine, molto irritante per un intestino già parecchio sotto sopra, e le fibre. L'eccesso di fibre può dare luogo a fermentazione anomale nell'intestino e quindi sviluppare poi meteorismo e tutti i sintomi associati. Quindi ad esempio potresti farti, non lo so, una tazza di latte di riso con dei fiocchi di mais piuttosto che con del riso soffiato. Aggiungi sempre a colazione almeno un paio di frutti, anche qui attenzione alla frutta che non deve essere troppo zuccherina, fatta eccezione per la banana che si contiene una buona dose di zuccheri ma anche tanto potassio, che è un elemento sicuramente molto importante per il corretto funzionamento dell'intestino. Al di là della banana potresti ad esempio utilizzare degli agrumi, arance, mandarini, dei pompelmi, la mela o la pera. Pera però non troppo matura, perché quando è troppo matura può dare più fastidio al nostro intestino. A metà mattina, a metà pomeriggio utilizza invece ad esempio dei cracker, ma abbiamo detto prima che la farina integrale non va bene e nemmeno quella bianca, ad esempio cracker di mais, cracker di riso piuttosto che gallette o magari anche qui frutta con un poco, con poco zucchero essenzialmente. A pranzo e a cena prediligi proteine, soprattutto quelle della carne, del pesce, delle uova. Abbiamo detto no latticini, quindi no formaggi. Se sei vegetariano puoi utilizzare ad esempio del tofu piuttosto che del tempio, prodotti comunque analoghi, no al seitan perché è fatto essenzialmente di glutine. Ottimi anche i cereali interrali, attenzione ho detto cereali interrali, non la pasta interrale ad esempio perché è fatta sempre di frumento che abbiamo detto che non va bene, ricco di glutine. Utilizza riso interrale, miglio, quinoa, amaranto per esempio. Attenzione anche alle verdure che sono un po' lo spauracchio di tutte le persone che hanno disturbi di tipo intestinale. Quali verdure vanno bene in queste casi? Le verdure più utilizzate sono le insalate povere di cellulosa, per esempio l'indivia belga, la cicoria o il radicchio rosso, sicuramente non quelle dolci. Puoi utilizzare delle farote, dei finocchi, delle patate lesse, queste vanno tutte quante molto bene. Non utilizzare verdure verdi cotte, spinaci, biete, broccoli per esempio perché possono essere molti irritanti per l'intestino e anche ad esempio il cavolfiore non è sicuramente indicato in questi casi. Per quanto riguarda invece i legumi non è necessario escluderli completamente dalla dieta. Quello che puoi fare in questi casi è assumerli senza la buccia. Quindi il consiglio che ti do è ad esempio di farli passare con il classico passa verdura in modo da trattenere le bucce e mantenere solamente quella che è la polpa, mangiandola poi sotto forma di vellutata o in altro modo se preferisci. In questo modo assumi le proteine e gli elementi nutrizionali più importanti dei tuoi legumi escludendo la maggior parte delle fibre che sono invece contenute soprattutto nella buccia. Come sempre puoi trovare altre informazioni e utili approfondimenti negli articoli che scriviamo su www.l'altra riabilitazione.it